Il turismo culturale rappresenta oggi una tra le principali motivazioni di viaggio, in particolare per mercati ricchi come quelli anglosassoni e del Nord America. Solo in Toscana sono 6 milioni all'anno i turisti che dichiarano di scegliere questa meta per godere dello straordinario patrimonio della regione. Per quanto riguarda un nome come quello di Piero della Francesca, i dati legati ai suoi itinerari indicano aumenti di presenze turistiche fino al 15% e del 10% di fatturato commerciale derivanti da introiti per strutture ricettive e di ristorazione. Anche se Piero continua ad essere un prodotto per intenditori. Rilevavano i dati statistici questa mattina che per esempio solo per la regione toscana il turismo culturale rappresenta il 35%, quindi non può essere più considerato un fenomeno di nicchia ma è un turismo di massa. Non può essere così per esempio se attrarre il fenomeno culturale d'attrazione diventa un artista assolutamente elitario come Piero della Francesca. Fondamentale in questo senso diventa la collaborazione con i territori limitrofi. Esistono territori che hanno invece il problema opposto, tipo Rimini, che hanno un turismo di massa non qualificato, legato solo a determinate stagioni e che cercano invece di qualificare il proprio prodotto collegandosi alla qualità. Ma anche dal punto di vista della convenienza economica avere la possibilità di un prodotto che raccolga segmenti e flussi turistici di più variegati, che vengono da più paesi, in particolare puntiamo molto sul nord Europa e il nord America, là dove Piero è già apprezzato, conosciuto. Piero è stato riscoperto dalla cultura anglosassone e lo apprezzano più in questi territori che forse in Italia. E accanto all'arte il territorio dell'Italia centrale è in grado di offrire molto altro. L'elemento d'Italia ovviamente è un turismo culturale di alto livello anche, di alto livello culturale anche con una buona capacità di spesa, però è l'occasione per raccontare altro, per raccontare il patrimonio enogastronomico delle nostre terre, per raccontare la possibilità di fare di turismo naturalistico, ambientale. In realtà è l'occasione per vendere e proporre un mix di opportunità turistiche che le nostre regioni hanno nel proprio carnet.